Dopo 5 minuti di tentativi sono riuscito io ad essere il cercatore Io mi inizio a bere uno slurp Voi avete tempo, altri 54 secondi per nascondervi E poi a 9 minuti arrivo io Guardali quei due maledetti che stanno Ma... Non ti posso soffrire io Mi sono anche bevuto uno slurp No, comunque Io per sicurezza me lo son bevuto Però... Sto a posto Quanto tempo? Sento qualcuno sopra di me 35 secondi No, non so dove nascondere Oddio, neanche io Io sono fermissimo che corro da una parte all'altra del mio box 2x1 Però sento passi sopra di me Cosa dici? Non lo so Mi state nascondendo insieme Maledetti È che non so se mi vedo Ma se io non so dove sei non posso aiutare Io ti ho visto Cioè, a meno che sia avanzato 10 secondi ragazzi 9 No, non puoi darmi un indizio, perfetto Eh, appunto, io non so se Adesso utilizzo il cespuglio 5, 4, 3, 2, 1 Via Ho lo speed boost, vi avviso A me mi trova subito Possiamo andare via tipo ninja con la La stella di fumo Ah, con la smoke Allora Questo cespuglio mi sembrava un po' fantoccio invece È un cespuglio, cespuglio dentro un camion Mi ha laggato tantissimo tutto il gioco Incredibile Ok, ci sono È pieno di grano in giro Non ho parole È solo 8 minuti a mezzo? È solo? Allora Rinfresco un attimo le regole Io vi devo dare una picconata Per noccarvi Però non vi posso confermare Quindi entro quel tot di tempo In cui il vostro compagno è noccato Dovete andare e salvarlo Se volete vincere questi 10 minuti Il problema è che non ci vediamo in mappa E neanche in nome Non vi vedete in mappa Neanche in nome No Beccato mio dio Adesso sei passato dritto Aiutami Allora Dov'è Kairan? No, ti tengo d'occhio Sto correndo da una parte all'altra Pss, pss Perché stanno trovi Kairan Cosa sta facendo il gatto? Pss, pss Ma lo sai dove sono almeno? Ma io? Eh No No, un momento Non ti troverò mai neanche io Come facciamo? No, ma sono caduto in un buco sotto Raga, sono caduto in un buco sotto Posso alzare? Vieni qua, vieni qua Ho dovuto fare il respawn io Perché è pieno di buchi Anche sotto il grano ce ne sono Devi stare attento Non l'avrà arrestato Spero Fammi andare a controllare È un mago quello Quindi è probabile Eccolo No, il buco no È perfetto Quindi c'è Kairan adesso qua dentro Ma sei caduto Ma sei caduto? Eh sì Ok O sono rispaulato Allora, vediamo un po' Perché l'ho buttato giù una volta Però Kairan Io sto controllando qualsiasi cespuglio Ve lo giuro Non è più in team con me Ma hai ragione Davvero? No Cambio allora, no? Non posso Perfetto Ah, perché sono trovato Quindi passo dalla parte di chi cerca Davvero? Eh, penso È vero È ragionata così Eh, ma lui sa dove sono Non ha senso Allora, a sto punto io ho perso Ok Allora Cinque minuti Dove è Kairan? Infatti ho lo speed boost, ok E anche i... Come si chiama? Le cure Vedo fixer Poi sei In alto, molto in alto Qualcuno ha preso uno speed boost? Eh, io Adesso? In questo momento? No Perché l'ho sentito prenderlo adesso Dove sei, Kairan? Non dirmi che ha preso lo speed boost, questo Come ha fatto? Eh, deve trovare il posto E poi può scendere Non c'è spuglio veloce Cosa che mi sono pagato Fantastico Sono un cespuglio veloce Io cespugli non ne vedo Oltre a questi che sto continuando a picconare Ma non muoiono Non muoiono No, è impossibile È impossibile in mezzo al grano, fixer Ogni tanto vi vedo Ogni tanto vi vedo Tu sai ancora dov'è, lui? Eh, non lo so Tu ti sei spostato? Io? Eh No E allora lo sai Sì, ma non è possibile questa cosa Perché è perfetta questa posizione Si è passato a fianco diverse volte Dai, un indizio sì Posso dire questo Eh, appunto Fin dall'inizio In realtà Non è normale Ci rimarrai molto a mano Sì, ne sono sicuro Per me hai trovato subito No, qua non c'è Non può essere qua dentro Che capo ci sono salito Con la prima Dal cornicione mi sa Non è nella macchina Kairan Ok, non sei neanche qua dietro Qua sotto Da nessuna parte Dove sei? Io non ci gioco più Con nascondire con Kairan Fortissimo Posso dare un indizio se vuoi Un altro Aspetta Non lo do io No, glielo do Vai Sei fermo? Adesso sono fermo Fammi riuscire dalla porta Non è possibile È enorme la bolla di fumo Non puoi essere qua sotto Ci sono passato A parte che adesso Con gli fumo Non vedo più niente Ve ne do uno anch'io È pronta? È nel grano Eh, grazie 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 mille Molto gentile Ma sono tutte spostate Le smoke Dove potrebbe essere Per lanciarlo? Due minuti e mezzo Due minuti e mezzo Non ditemelo A parte il fatto che Dentro la tenda Non ci può entrare Te ne immagino Ho scoperto il bug Ancora con queste smoke Non vedo niente raga È incredibile Questa ne hai ancora? Una No, tre Come è possibile? Eh, ho il trucco per Farle crescere Le ho piantate sul grano Ecco qua Un momento Un momento Un momento Un momento Voglio fare una cosa Riprendo la speed Perché ovviamente Sono lentissimo Così non ce la farò mai Te hai minuto e quaranta Non ci credo Cara Non può vincere lui Ancora Ma dov'è questo? Casino da me Cavolo fa Lanciata così Mi sto provando anche il parkour io Per entrare in posti Mai visti Il bello è che tu non vedi Da dove la tira Io ogni tanto sì No raga Io sono bloccato Non posso più muovermi Da questo posto Cosa sei? Qua dentro Fixer Eh, qua dentro dove? Eh, guarda il camion Dove ha tirato la Dove stavo cercando La prima volta Ok Mi vedi? Sì Ecco Non posso uscire Devo fare il respawn per forza Ma che cavolo È fatta un po' male Questa mappa Non capisco perché Ci sono buchi Boh, random Sarebbe da fixare un po' Allora Batutina No, no Assolutamente no Allora Chiron Ha finito con la smoke Dovrebbe aver Ok, appunto Era finita 30 secondi Mio Dio Non vedo niente Non vedo niente Non vedo niente E non trovo neanche Ma quella di lontana È una smoke What? Ah, sei tu Col cespuglio Sopra Maddo Quanto rimane? 30 secondi No 7, 6 Ce l'hai sulla destra Davi Sotto la mappa Quindi ne tiri un'altra Ma non le avevi finite Finita Non ci credo Aspetta Sotto Ce l'accompagno io Stai lì No, dove sei? Sul serio? Si è resettato Va bene Mi rinascondo un attimo là Adesso mi giro Ti rinascondi lì Senza neanche startare il game Sinceramente Possiamo farlo direttamente così Ma viene sul serbatoio Ok, sta arrivando Saprete Ah Eh È girato verso lì Verso il ghiaccio Ok Cioè quindi non è in nessuna Di queste parti Ok, è nascosto La cosa Fastidiosa è che rimane Il start game a fianco Però comunque Se voi posso dirti che da qua si vede Dove è nascosto Ma si vede anche lui? No Sbucca un po' Io non vi vedo Vabbè Sbucca un po' Ah ok Non è vero Non è vero Fin dall'inizio Non è vero Io ho controllato sotto il camion Ma sotto questo camion Sei salito sopra un paio di volte Cioè l'altro camion Lo sentivo vicinissimo Oh, e io non sapevo dove fosse Ed era vicino a me E mi faceva No, vabbè Questo è un mago Del nascondino Cioè è il posto più stupido Io sono venuto qua Ho detto Ma dove diavolo è finito? Cioè avevo dietro No Cioè qua sotto Guarda che pazzesco Non sembra neanche che ci puoi andare E io Perfetto Io non ho pensato a questo di camion Ma ho pensato all'altro Sono andato nell'altro a guardare Guarda ma la testa si compenetra Non ha senso Infatti ho detto Appena è salito dentro il camion Ho detto Magri mi vede la testa Aspetta, infatti Prova a ritornare sotto Si vede benissimo Ritorna sotto tu Voglio vedere con il tuo Con il tuo Con la tua testa Si vede? No, tu non ti vedi Ah ok Eh però mettiti in piedi ballando Vedi che si vede Aspetta No non si vede Kyron Si è qua Guarda dietro di te Ah ma è qua sotto la cassa Oddio Oddio Sto guardando tutta l'altra parte Vabbè Esattamente nella cassa Vabbè Ho fatto un punto io E un punto voi Perché siete riusciti a arrestarvi Però Mi sa che Non è andata come speravo Cavolo Ok Chiudiamo qua Perché sto pensando ancora Nascondigli E mi vengono i primidi Bene ragazzi Per questo video è tutto Se il video vi è piaciuto Se ne volete vedere altri Di questo genere Mettete un like E mi raccomando Tutti con il support A creator Kyron Prima di comprare la trombetta Fai support a creator Anche tu Ovviamente Eh già lo ho fatto Bravo Così ragazzi Tutti come Kyron Se arriviamo a 100.000 Support a creator Faccio le maglie